E' stato il giorno di Pasquale Marino, l'allenatore 61enne originario di Marsala ha diretto il suo primo allenamento in bianco-rosso dopo aver preso il posto dell'ormai ex Michele Mignani. Marino ha firmato un contratto che lo legherà ai galletti fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo, prevista per domani alle 12 la conferenza stampa di presentazione del neotecnico. Settici i tifosi del Bari sul cambio panchina. Per i fedelissimi bianco-rossi presenti al primo allenamento diretto da Marino, le responsabilità della debudente prima parte di stagione della squadra sono da imputare principalmente alla società. Le colpe non sono né di Mignani né di tutto il suo staff, perché secondo me provengono dalla società e neanche dal direttore sportivo, perché il direttore sportivo deve fare i conti che hanno i soldi che gli passa alla società. Chi ci rimette? È il tifoso, eppure una città come Bari, che porta 60.000 persone allo stadio, non merita questo affronto. È il giorno di Pasquale Marino, è lui l'uomo giusto per risollevare le sorti di questo Bari? Per me hanno sbagliato con questo esonero di Mignani, perché io non la vedo bene, sinceramente. Lo sbaglio è della società. Non lo so se Marino sia la persona giusta. È fermo da due anni, quindi non è una arena da due anni. Non lo so, dobbiamo vedere le prossime 3-4 partite come va, se continuano le pareggite o ci sarà qualche vittoria. Io non lo so. Mignani è la coda del pesce, ma il pesce quando inizia a marcire, marcisce dalla testa. Quindi secondo me chi si doveva autosonerare è il presidente. E basta, secondo me basta. Cosa c'è da aspettarsi ora da questa stagione per quanto riguarda il Bari? Che il nome di San Nicola, lo stadio, ci fa una gratia. Questo solamente. E basta.